Ciao a tutti dalla Simo! Ciao! Ciao, ciao, ma Chiara? Chiara chi? Chiara Biasi, blogger! Ma molto piacere! Senti, questa sera devo parlare di che cos'è un fashion blogger, ce lo puoi spiegare? Allora, un fashion blog è un blog dove la protagonista è una ragazza normale che nella vita di tutti i giorni insegna, diciamo, alla gente come vestire, cioè deve trovare delle cose a metà prezzo, delle cose più fighe, delle cose che andranno in quel momento. Tu lo fai, tu lo fai, ok, che cosa fai tu? Perché siamo all'evento di Patrizia Pepe e tu sei di Pordenone e quindi siamo tutte due Pordenone e sono molto contenta di essere con te. Avete visto queste Pordenone di Doc? Dove vanno? La Pia nella Mora? Che cosa fai tu? Diccelo! Allora, io nel mio blog diciamo che mi invito come nei social a mostrare quella che è nella mia vita, che non solo mostro come sono vestita, quindi magari una maglietta che secondo me potrà andare di moda in quella stagione, ma anche una vacanza da fare, un hotel da scegliere o, non lo so, uno specchio figo per la casa, qualsiasi cosa. Ci parti in giro, ci fai vedere le cose fiche? Sì. Bellissimo. Senti, il tuo desiderio? Il mio desiderio più grande è avere una famiglia presto in crocele vita. Oh, tanti auguri tesoro. Senti, allora, tanti tanti baci dalla Simo e da te. Sì, a tutti quanti. Grazie. Ciao.